Per negligenze e amministrazione alvia il primo processo in Italia per inquinamento da plastica in mare, lo fanno sapere i consiglieri regionali Muscara e Cammarano. Il rinvio a giudizio per gli otto indagati di disastro ambientale per il guasto del depuratore di Pestum che provocò lo sversamento in mare di 130 milioni di filtri di plastica dà ragione alle accuse che abbiamo sempre formulato sulla scarsa manutenzione degli impianti regionali. Per le negligenze di questa amministrazione regionale la Campania si appunta a una nuova medaglia del disonore in petto dando vita al primo processo in Italia per inquinamento da plastica in mare, continuano i consiglieri. Il materiale espulso dall'impianto finì infatti per riversarsi su gran parte delle coste tirreniche, concentrandosi in particolare sul litorale del Basso Lazio. In quell'occasione ci attivammo con un'interrogazione alla Giunta e all'assessore all'ambiente tenuto conto che il guasto è del febbraio 2018 mentre i controlli dell'ARPAC risalivano al 2016 ben due anni prima. Ad oggi ancora non sappiamo quali azioni siano state messe in campo per evitare il ripetersi di uno scempio ambientale di questa portata. Alla nota stampa dei consiglieri regionali segue anche la dichiarazione del presidente di Lega Ambiente Campania, Maria Teresa, imparato che dichiara che dal febbraio 2018 milioni di dischetti di plastica provenienti da un impianto di depurazione di capaccio pestum a causa di un cedimento strutturale di una vasca si sono dispersi in mare e si sono spiaggiati sulle coste italiane e di diversi paesi, sottolinea la presidente di Lega Ambiente Campania, imparato. Grazie alla campagna Caccia al dischetto promossa insieme a Clean Sea Life e all'impegno di tantissimi volontari, in questi anni siamo riusciti a ripulire diversi lidi campani invasi dai dischetti. Ora però ci aspettiamo che i responsabili siano puniti come previsto dalla legge 68 2015 sugli ecoreati, senza però dimenticare l'altro grande problema dell'Italia e che con Goletta Verde denunciamo da anni, ossia l'inadeguatezza degli impianti di depurazione, una carenza strutturale che ci è già costata condanne e procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea con diverse sanzioni.